A Lido Red Moon lungomare Bova Marina, i momenti più belli dell'estate da vivere intensamente giorno dopo giorno. Divertirsi, prendere il sole, rilassarsi, gustare tante cose buone. Pizza cotta nel forno a legna, ristorante con l'ottimo pesce fresco, stuzzicherie, cocktail e tutte le sere intrattenimento. Per un'estate esplosiva, scegliete il Lido Red Moon lungomare Bova Marina. Grazie a tutti.